di una cosa che sicuramente però non vi deve rattristare. Tra poco comunque ci sarà la commemorazione dei morti. Io ho scritto una poesia proprio diciamo su questo, sulla morte. Però comunque alla fine è una speranza, cioè vuole dimostrare veramente una speranza. Quindi assolutamente non vi dovete preoccupare di niente. La poesia è avvertita con un mistero da morte. Se tutti i morti, quando è nata la terra, se ovvero che non stanno all'aldilà, saranno tanto una montagna igienica, che ha mangiato un pataterno e un po' di tà. Se ovvero poca somma tutte qua, non ci sarà manca rivalità, o purella, o ricca, o iang, o mio, a tavola si sentono a mangiare. Io ho già figurato che sei morto per tutti i anni, con un cammino solo. Ma che c'era da questa convinzione? E' un mattino in casa, se ho vestito buono. Che ne sappiamo noi quando uno mora e che è legato quando uno va alla nuova. A taveta, nessuno mai è tornato. Nessuno mai ciò può darvi a puntare. O molto vecchia, dà figli di spiacea. Ma quando si è andata lì, quant'anno della terra, pure l'altra ora, pare saputo niente. E' fatto il suo, ma te ne fai ragione. Se è morto, posso dire che non è che ora. Se spacco ancora un pietro, padre stesso. Ma creature, no, non ne parliamo. Stanno mettere con uccidere la maculana. Ma, o padre stesso, o santo, dice la gente. Ma che se ne fai che stanno mangiando? Con quattro ragione, con figli e mamma. Che compassione tene, perché chiami? A me, scufate, proprio non so. C'è da stare, non dico una ragione. E va trovando una baravisa, attorno, addosso se va a cucinare il signore. Ma chi sapete con me che in questa vita, lo premia, certamente, ci sarà. Chi le cambia in tuo vero signore, una vita eterna, e con felicità. Per questo mistero, ognuno ha da pensare e fa più bene e non malvagità. Dopo una vita, il stile e il dispiacere, arriva senza nozze a tricchiamo.